ragazzi allora questa è la mia lista e comunque non me la faccio vedere perché sennò non si vende niente perché a questo punto io analizzo la mia situazione e anche sulla mia sulle persone che ci sono nella lista quindi questo è l'argomento principale dei video che però parano di politica quindi iscrivetevi se non avete ancora fatto e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video quindi un like e basta quindi solo questo e non mi costa nulla iscrivervi al mio canale perché è ottimo e mo lo faccio e mo faccio i nomi di questa vista della mia situazione che l'ho creato io però con questi ma perché non c'entrano e quindi devo mettere da primo a 3 c e quindi mi comunico solo questo mi raccomando e buona missione ora la mia lista è città il nuovo sindaco San Paolo insieme con il sottoscritto Hermino e con me ci sono mi raccomando perché è stato molto comodo perché è stato un lavoro creato poi vincenzo Tosiani che fa il commercialista come me e Nicola Molinaro poi Antonio delle mercini del pub ovviamente poi c'è Federico Marino Giancarlo del pub poi gli avvocati sono Nicoletta e Agnese che sono i miei avvocati e ci sarà anche con i miei avvocati e ci sarà anche con i miei avvocati e ci sarà anche con i miei avvocati che fa il commercialista come i miei avvocati poi c'è Federico D'Essabio che è un avvocatore poi ci sarà cammina cammina a Michele D'Agostino cammina a Ringoli e Piero Minchillo e questi sono i tre c componenti che so io quindi ho solo questo da dire e quindi io sono il futuro del presente e tipo del nuovo sindaco quindi mi raccomando e spero che non prolungo questo contenuto quindi vedete tutti i miei contenuti e per non perdere i prossimi appuntamenti che riguardano anche da calcio però basta con lo sport ma iniziamo a parlare di politica ok mi raccomando e forse San Paolo